C'è attesa per la sentenza prevista nei prossimi giorni circa il ricorso presentato al Tribunale di Napoli da parte dei cinque curatori fallimentari di Bagnoli Futura che hanno citato in giudizio Fintecna, Cementir, Eternit Napoli, Fondazione Idis, il Comune di Napoli, la Provincia, la Regione Campania, il Ministero dell'Ambiente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la mancata bonifica dei territori dell'ex area Italcider. Una vexata a questi o più che ventennale che vede tutt'oggi un luogo tra i più incantevoli del mondo e con potenzialità da sito postindustriale votato al turismo naturalistico e balneare, ancora lasciato alla merce dell'incuria dei tempi. La decisione dei curatori è stata presa a causa dei gravissimi danni di inquinamento ambientale provocati dalla mai avvenuta bonifica. Urgenti provvedimenti dovranno essere presi per la rimozione della colmata, lavoro che spetta a Fintecna. Il rischio, se il ricorso non verrà colto, è l'impedimento per Bagnoli Futura di acquisire le aree a maggiore pericolo di inquinamento, quali le barriere idrauliche e le zone un tempo adibite alla produzione Ethernet. Intanto le casse di Bagnoli Futura sono pressoché vuote e le spese quotidiane per tutte le opere ammonterebbero a circa 54.000 euro. Il ricorso è stato portato avanti coinvolgendo anche le istituzioni per obbligare all'accertamento di tutto ciò che non è stato fatto e che avrebbe provocato danni in mani in termini economici per la zona e la collettività, senza contare i minuti, le ore che sempre più scorrono mantenendo materiali altamente inquinanti nell'area flegrea. A pochi metri dalla zona si continua l'attività di balneazione e di molo turistico per le barche, poca cosa rispetto alle grandi risorse di un sito che da luogo devastato e votato al rischio per la cittadinanza potrebbe divenire invece un luogo di eccellenza dell'economia turistica mondiale.